A settembre ci siamo lasciati con la dottoressa Simona Borghesi con l'acceleratore lineare che andava sostituito e quindi qui non c'era più niente. Adesso dopo sei mesi c'è già il nuovo acceleratore e un paziente è già stato trattato. Un importantissimo progetto di innovazione tecnologica che vede l'installazione di una macchina di ultima generazione che servirà a ottimizzare la sicurezza dei pazienti, dei trattamenti che possono essere più precisi in quanto la nuova macchina dispone di un importante dispositivo integrato che consente di seguire l'atto respiratorio e quindi tutte quelle che sono i tumori, le neoplasie che si muovono con l'atto respiratorio. Utilizzando questo sistema noi siamo in grado di fare trattamenti ancora più precisi, più sicuri e di risparmiare molto di più quelli che sono gli organi sani e andare a causare molti meno effetti collaterali ai nostri pazienti. Questa è la sostituzione del primo acceleratore lineare. Quando partiremo con l'attività su questo acceleratore iniziamo subito a sostituire il secondo acceleratore. Quindi è un processo in continuo cambiamento, in continua attività e chiaramente l'obiettivo è quello di rinnovare l'ospedale. L'ospedale d'Arezzo è uno di quelli ai primi posti come priorità perché dare risposta in questo ospedale rapidamente con l'innovazione un po' perché anche i professionisti hanno una soddisfazione e anche sono contenti di dare prestazioni sempre più importanti e più veloci e concrete ai pazienti ma anche le persone, i cittadini di questa provincia e di questa città in particolare vedono il risultato di quello che è stato un lungo percorso di pianificazione e acquisizione di queste strumentazioni.